Torna all'Amazon Gaming Week, la settimana che sul noto portale e-commerce americano di shopping dedica l'immenso mondo del gaming. Quali saranno i migliori titoli giapponesi in offerta quest'anno? Dallo scorso 29 agosto e fino al prossimo 9 settembre 2022, gli amanti del gaming nipponico possono approfittare di numerosi sconti per acquistare videogiochi giapponesi per le proprie console PlayStation, ovvero la 4 e la 5. Procedendo con ordine andiamo quindi a vedere quali sono, secondo me, le migliori offerte, questa top 5 dei migliori videogiochi giapponesi di questo Amazon Game Week 2022. Sonic Colors Ultimate, la riduzione di Sonic Colors, uscì lontano 2010 per festeggiare il ventesimo anniversario e il porco spino blu. In questo videogioco, caratterizzato da uno spazio in tre dimensioni, il protagonista deve come sempre affrontare nuovamente il suo nemico principale, il dottor Eggman, per impedire di realizzare i suoi soliti piani malvaggi. Disponibile per PlayStation 4, questo videogame certamente non ha noia. Veloce ed entusiasmante, sicuramente non deluderà i fan della saga. In occasione dell'Amazon Gaming Week, il videogioco è venduto insieme dalla simpatica sorpresa, un portachiavi di Baby Sonic, il tutto al prezzo di Euro 27,99 con uno sconto pari al 30%. The X of Arisen, RPG in stile action sviluppato e pubblicato da Bandanamco Entertainment per console e PC. L'uscita era originariamente prevista per il 2020, ma è stata posticipata a settembre 2021 dalla casa madre per ottenere una migliore ottimizzazione del videogioco. Il titolo, che ha vinto il premio come miglior gioco di ruolo ai The Game Awards 2021, che vede come protagonisti un uomo e una donna dei mondi oppositi Dana e Rena durante il loro viaggio per porre fine all'oppressione del popolo Dana, da parte di Renan, lo trovate in offerta al prezzo migliore di sempre. Il videogame è infatti acquistabile in versione PlayStation 5 a soli 42,99€ con lo sconto del 39% dal prezzo di listino iniziale di 69,99€. Assolutamente un buon affare! Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è l'ultimo capitolo spin-off della storica saga Square Enix. Il titolo, presentato come un action GDR, vi ricordo, è stato sviluppato in collaborazione con Team Ninja. Il videogioco, uscito lo scorso 18 marzo 2022, si è presentato fin da subito come frenetico e molto dinamico. Questo videogame segue le scende di Jack, un uomo che vuole fronteggiare all'oscura divinità che ha invaso il suo mondo. Egli vuole sconfiggere la divinità e riportare la luce in quanto ossessionava dalla presenza di questo dio. Jack non agisce dunque in nome della giustizia o di un bene superiore, ma per liberarsi di un tormento che neanche lui sa spiegarsi. Su Angel of Paradise Final Fantasy Origin, per PlayStation 5 l'ho trovato in questa offerta di Amazon a prezzo di 44,99€ con lo sconto applicato del 40%, un must-have. One Piece e Pirate Warriors 4 è l'ultima incarnazione di una delle saghe museo più famose e che ha sempre rappresentato una garanzia assoluta per gli amanti dell'opera originale. One Piece e Pirate Warriors 4 si porterà piuttosto in amanti nella storia di One Piece. Quindi se siete rimasti indietro, vi consiglio ovviamente prima di rimettervi in pari con l'opera. Sviluppato da mesi del genere ed azione muso, Koei Tecmo Games, One Piece e Pirate Warriors 4 unisce le emozioni di spazzare via ordini nemici con le divertenti energetiche personalità della serie One Piece. Per salpare con questa nuova avventura videolica di One Piece, Amazon per l'occasione ha deciso di proporre al pubblico al prezzo di ben 17,51€ per PlayStation 4 con uno sconto pari al 42%, per veri appassionati. Se amate i giochi di ruolo a stampo giapponese e non l'avete ancora fatto, è sicuramente giunta l'ora di recuperare Final Fantasy VII Remake, prima parte della rivisitazione del celebre Moncolossar nipponico. Un titolo rimasto nel cuore e nella mente di tutti coloro che ci hanno giocato, imponendosi come un vero e proprio mostro sacro del genere, tornato in una versione rivista in quasi ogni aspetto. Final Fantasy VII Remake racconta di nuovo le vicende dell'omonimo video gioco uscito lontano nel 1997. La storia parla di Klaus Trife, guerriero d'elite che insieme sui compagni dell'Avalanche dovrà combattere per salvare l'umanità da una strana epidemia e sconfigge in maniera definitiva la Shinra. Un episodio titanico questo Final Fantasy VII Remake che Amazon ha giustito di proporre all'ottimo prezzo di 31,99€ con uno sconto pari al 57%, rendendo così l'operazione di Square Enix appetibile come non mai, un'occasione davvero da non perdere. Grazie. 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 Grazie.